bentornati nel canale delle burnio siamo su football pass 2021 mobile per gli aggiornamenti di fine anno io parto dal mobile poi passerò alla playstation 4 per fare appunto il football pass 2021 da console e poi le football sempre da ps4 entriamo avevo già visto stamattina presto ma non ho avuto il tempo di fare video lo faccio adesso novità da mobile ce ne sono alcune come sempre su mobile regalano di tutto hanno puntato il tutto per tutto su mobile d'altronde hanno fatto anche l'aggiornamento delle rose praticamente questo è un season update 2022 su mobile ecco che sta entrando eccoci qua allora praticamente hanno messo i future player brasiliani che sono questi qua io pensavo stamattina fossero due diversi invece sono gli stessi non so perché hanno messo sopra future players e poi ingaggio giocatori risalto e il box draw legend è sempre quello le partite sono rimaste le stesse però hanno fatto la campagna del buyer monaco che adesso andremo a vedere in extra eccolo qua questo qui vedete buyer monaco campaign da mobile ti danno degli agenti vedete ci danno praticamente dal 30 al 13 per sette giorni gli osservatori a 5 stelle del buyer monaco e il primo di gennaio ci danno la legge una leggenda del buyer monaco basta entrare e prenderseli giocatori in risalto sono qui vedete questi qua brasiliani eccoli qua questo è ulc ve ne faccio vedere un paio c'è ulc c'è questo qua a terzino sinistro è luis felipe o felipe luis felipe ho detto il contrario felipe luis e vabbè insomma brasiliani vedete voi se da mobile vale la pena di prendere questi qui questi player of the season praticamente perché non sono del weekend ma vedete c'è scritto pots mi player of the season brasiliani poi il box draw è sempre lo stesso infatti vedete giocatori rispondi 294 io ho fatto già due giri e ho trovato effettivamente delle cose che vi faccio vedere velocemente su sede club la mia squadra mi pare sia si giocatori vabbè immobile l'ho trovato e mi avevano regalato un preparatore di esperienza da 100.000 punti esperienza l'ho portato al massimo l'ho portato immobile a 97 ed è devastante e di nuovo mi pare che avevo trovato di leggende allora ho trovato gli unberg che non lo avevo e forse un'altra non mi ricordo se ne ho trovato un'altra no caffù ce l'avevo già l'isara su ce l'avevo ho forse trovato l'isara su un'altra volta glielo ho dato sopra all'altro l'isara su mi sa sì 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 ho trovato gli unberg e l'isara su e basta poi vediamo se ho dei preparati parli avere un preparatore cls glielo do a cosa cls glielo do a eccolo qui questo qui che devo convertire questo lo devo convertire a ma non posso farlo da qua che palle allora devo tornare un attimo indietro faccio velocemente fate fare preparatori converti quel cls di converti continua eccolo qua eccolo qua poi torno indietro giocatori le lo diamo o a nedved o a song glielo do a nedved visto che vanno leader anche facciamo allenamento e dai jean patrick e via infatti mi ha dato un cavolo sapevo ecco questo è tutto insomma da mobile ci sono queste cose qui da mobile con i punti e football ci sono sempre delle leggende ma maradona laicard ce li ho già quindi chi se frega bebetto nakamura berli e sena muang ma i due più forti ce li ho già laicard e maradona quindi non mi interessa esatto questo era quanto da mobile c'è quella novità del bayern monaco e le partite sono sempre quelle insomma bayern monaco paris san germain e le football se volete giocare online ci spostiamo su playstation 4 eccoci qua da ps4 sulle football pass 2021 season update entriamo vediamo che cosa hanno messo qua di nuovo campagna di avanzamento allora dal 30 al 30 di aprile vabbè ci danno l'altra campagna l'esperienza ottenuta sono modificata per 5 addirittura i miei coglioni poi vabbè la panoramica del match day ma non mi interessa forse non ho messo questo nuovo del legend worldwide clubs e mobile clubs challenge al team street challenge challenge vabbè andiamo a vedere che cosa hanno fatto di nuovo su ps4 e ps5 anche comunque ps21 console beh l'aggiornamento live non c'è perché non c'è le lettere le hanno fatte solo su mobile ho 300 punti a football ci prendiamo vabbè qua perché non gioco mai due poste in arrivo ci sono le 100 monete e i punti a football ok allora per curiosità però su my club store andando su punti a football ma qualche giocatori ci sono scusa ah gli stessi che ci sono sul mobile ok o i preparatori non mi interessa non ho guardato quanti punti a football ho però 7650 no vabbè e niente vediamo qua allora agenti quanti gp ho gp non ne ho perfetto una bomba che è nuovo si vediamo che giocatori hanno messo su questo nuovo allora c'è maradona clouif can ronaldino bello ronaldino beckenbauer iniesta l'ho trovato van basten viera nedved gulit gerard figa beh io non ce li ho più ma li avevo tutti a questi perché ricordiamo che le burnia in folle pazzia ha cancellato tutta la squadra rai card vabbè tutti i cuore ce ne sono tanti nakata campbell paris di sun roe king pt salas zamorano york peccato che non ho gp però casomai nel terzo account ho 2000 monete e ho ad avere anche 10 gp quindi potrei fare la l'homberg zaghi rosicchi di saras oggi berzo silva e basta beh ne ho messi parecchie di leggende qua non è malvagio però hanno tolto via gli agenti speciali non ci sono più avete visto non ci sono più quindi niente mi sa che il prossimo errore le monete le teniamo per gli agenti speciali che verranno prossimamente quello no allora la mia squadra io quasi quasi gioco da qua ho questa squadra così vedete ansufati allan bale pogban di diniesta davis araugio bonucci marchigna smeret ho messo meret avrei anche un altro portiere eh però ho messo meret perchè questo non fa affinità poi ho stones ho trovato maldini maldini niente ho trovato di leggende rice fabian luiz bernardeschi sanchez e chic ma quasi quasi gioco con questa mettiamo solo a posto questo capitano bonucci punizione lunga pogbino corta pogbino va benissimo spalla punizione bail a sinistra pog bail rigorista allan giocattori in attacco mettiamo a lauso allan e metterei la pogbub batte e marchigna dai questi qua ok dai ci facciamo una partitella qua vediamo cosa c'è da fare vediamo intanto cosa c'è da fare contro com poi quasi quasi gioco una partita anche contro com cosa da sta roba partita contro com vince la partita vabbè e i premi sono tre vediamo che cos'è contro lo zenita dilettante ti danno 4000 per 2 vabbè mi fotte un cazzo vabbè li farò magari per i cazzi miei visto che ho la squadra nuova poi il match dei coppa challenge online cosa hanno messo? vabbè ci saranno le solite under o over quella roba da e c'è la leak challenge e la leak challenge cosa ti da? perchè non riesco a vedere i premi su sto cazzo di gioco anche qua preparatori per 5 e devi fare accumula 4 punti in 3 partite vabbè anche fattibile potrei fare questo dai dai proviamo questa dai vediamo se troviamo qualcuno poi se il video non è lunghissimo vi faccio anche una partitina sui football vediamo quanto esce il video si basta che mi trovo all'avversario in tempi brevi mi ha già messo fuori casa subito ah non me l'ha trovato procediamo subito vediamo contro questo qui che avrà un signor squadrone ma è merito uno come me zero punti zero punti zero punti denis 76 voi se lo conoscete io no schema di gioco tutti messi così bene bonucis giù metto maldini dopo fogba giù mettiamo fabian luiz base giù metto benardeschi bernardeschi rigorista alman giocatore in attacco per questo punto dato che lui gioca così metto marchinho sindidi e alman magliette perchè mi mette sta maglia di merda lui li metto la prima che è quella nera e io mi sparo questa della juve però lui non ha una maglietta rosso nera bianca tutta rossa dai lui così e io ho questa qui nuova della juve ok come bec maver maldini ah no mi sa bec accanto ai messi zico clif ronaldo squadretta io ho da come resto un raugio davis marchinho sindidi di Fabio Ruiz Iniesta insuffati i bernardeschi ha una merda guarda che bello che sia insuffati quella maglia di a juve come gioca dai vediamo come gioca contropiede passaggio corto vabbè miso contropiede passaggio lungo a squadra materassa scende in campo dopo parecchie settimane di inattività decida che forse il caso di giocare un'altra partita chissà come andrà noi giochiamo come sempre in maniera corretta e vedremo se anche il nostro avversario giocherà in maniera corretta guarda che bello lo stadio il real day ne incontro la cipulia eeeh vabbè eeeh vabbè ah me la capiamo eeeh eeeh laga eh laga eh laga eh bravo la vuola non sta più sia la la gioca sulla destra marchinos prova il cross intercetta il passaggio pericolo gli spazzo eeeh 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 che è spazio se è fallo messi palla tra le linee cerco lo spunto si fa largo con grande determinazione zico tocco preciso alaba cross di alaba cioè la palla è rimasta a lui anche se l'avevo intercettata che tristezza di gioco deve farla a casa mia comunque tappa all'hand all'hand bravo sbagliato bravo il porter da per terra la prende grande si ma cosa fare questi qua arbitro minchia ah niente ma la parità si però non riusciva ah dai che buzo ah dai che cazzo che buzo si riparte di nuovo in parità si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito complimenti agli avversari che reazione da grande squadra tira all'hand ti sei mancì un cazzo no 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 ferma tutto ferma tutto si va bene in faccia che era tirata e sarà rimessa con le mani davis ottimo intervento ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario 1 a 1 un tiro l'ho fatto ma la squadra che si è molto più forte ma i mini proprio non va mi lo va un incontro per niente noioso anzi direi molto competitivo si entra negli sfogliatoi con due gol a referto 1 a 1 si riprende con il secondo tempo ciò con una palla lunga che culo ah non ci prova grande salvataggio da parte dell'esterno difensore direi che il portiere è stato impeccabile difficile fare meglio di così vai alla un momento l'occasione fallimenta è stato scoperto chissà cosa ti passa ora per la testa per noi come questi lasciami sempre il film Beckham Zico Vabbè. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Questa nuova potrebbe essere di fatale. Zico. Fai. 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 Non si fa sbagliare, ma non si fa sbagliare. Non si fa sbagliare. Non si fa sbagliare. Dai, che ti laghi come un porto. Fai. Trovano spazio allargando gioco. Trova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Iniesta. Fallo, arbitro. Non ho mai fisso neanche a farli. Niente non mi fai neanche a salvare la palla Non mi cambia neanche a lo metto Ma fallo dove? Ma dai ma che cazzo Questo laga fioi Ma la chiacca su questo Sarà vista Che gara da rompere i coglioni Cazzo questo L'arbitro l'ha avvisato Ora non può più permettersi di fare falli azzardati Se non vuole beccarci un carro Il gol è stato negato da un'incredibile parata Il gol è stato negato da un'incredibile parata Ma cagare Buon recupero anche se questo non è il suo ruolo Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario Sono tra le migliori qualità Ma non si è ritropassato il portiere Ah ma qua a testa Oh ma no che ne prendo una di testa Ciao 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 Dai Allan Dai Allan Al 75esimo Guardate vado a fare i cambi Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche La difesa poteva marcarlo molto molto meglio Adesso conducono Anche se solo con un gol di scarto Buon gioco Doppietta di Adland Allora mi direi Molto Metta Romandini Ok Che cazzo però Ma no Ma che cazzo Palla a Beckham Allarga il gioco A questo punto del match Non possono restare nella loro metà campo Devono proporsi in avanti Pur senza sbilanciarsi troppo Faccio qua Devono pareggiare E fanno bene a prendersi qualche rischio Mentre non vengono più fuori dall'aria Bravissimo E fallo Arbitro Cazzo Ma guarda che questo bastardo Fa falli su falli Non gli fissi Perché lagga il merda Te l'ho visto Ciao Finia Finia Finita Doppietta di Adland Arrivederci Real Denny 76 Cosa ne pensi Della partita Luca E chiaro che per vincere La prima partita Fuori casa C'era bisogno Di segnare Facciamo niente Ti gavi la squadra Che era Tre volte più forte Guarda Un grande emeretto E ti laggavi Anca Compariva i tacchi Dai Per favore Da 6 65 E' nata 6 54 Io sono nata 6 45 12 Punto in più Mi interessa un cazzo Proprio la valutazione Ci siamo presi Ste robette qua No va bene La partita sui football Ve la faccio A parte Vabbè Mi mancava Praticamente un pareggio Vabbè Mi uso Sego a voi A domani Chiudi qua E adesso Andiamo Sui football E per ultimo Le football 2022 Che è una demo Una demo Del calcio Saponato Dai Che sono Gli ultimi Aggiornamenti Dell'anno Poi speriamo Che Finita Con la campagna Ho visto Ho fatto 20 gol Fino adesso 20 gol 6 vittorie 4 sconfitte Partite Giocate 10 Vabbè C'è Come tutti Sapevate già C'è la Spanish League Non è che ci sia Altro Entriamo Ah le cose del termine condizioni d'uso Era un bug Che ti ripeteva sempre Di accettare i termini condizioni d'uso Allora ho letto nel sito Vedete questa cosa qui Dicono che se le avete già accettate Non serve più accettate Comunque Facciamolo per l'ultima volta E da domani O da quando giocherò Non le accetto più Perché Ho letto che è un bug Che si presenta sempre Questa cosa di accettare Ok Liga Spagnola Allora Devo trovare Beh il Barcellona Non manco morto Ho l'arintenzionato Ho il Real Madrid Ho l'Atletico La Real non sembra Poi c'è il Siviglia Questo no Poi c'è il Granada Il Cadiz Vabbè questo esegue Quasi quasi Mi prenderei il Valencia Io ho 4 stelle Sì non voglio Quelle 4 stelle E mezza Perché mi rompi Coglio Ma dopo 4 stelle Il Vigo Anca Cioè questo Sì è 4 stelle E mezza Il Vasco G Allora il Vasco Gipuzcoa Sai che quasi quasi Mi prendo il Vasco Gipuzcoa E il Bilbao Meravigliau L'Alava E il Pamplona No dai Mi prendo qualcosa Voglio Mi prendo qualcosa Il Valencia Sì Il Valencia E Questo oggi Ah con i gol Questa volta un gol Almeno 4 Almeno 7 Vabbè Questo lo fate Vi porto un video a parte Magari domani Su questo qui Vi consegnate Poi vediamo domani Forse domani faccio anche la live Perché tanto sono a casa Magari Ce le giochiamo domani Live Di Di ultimo giorno dell'anno Boh Vabbè Se vi è piaciuto Il video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Della Burnio Date un'occhiata Ai canali Dei Friance Che ho messo Sul canale Potete vedere Prima della playlist Di PES E Football Vedrete i canali Dei Friance Che sono Alessandro Gamer Chris26Martin El Joanito E Iva Stasi Team 10 contro 10 Di PES 21 Ciao ciao Grazie a tutti